ciao ragazze scusate nel mentre che stavo cominciavo il video mi è partito mi è arrivato un messaggio di whatsapp come sempre allora avevo promesso in realtà volevo fare una dare su instagram ma non ce ne voglia che oggi avrei usato la nuova palette di mac che ho comprato ieri se non mi seguite su instagram il nickname è pur rainbow ieri sono andata da mac e ho comprato questa palette bellissima la prinsy princess che ha questi colori strepitosi qua e avevo promesso che oggi avrei fatto un video dove mi truccavo con questa così almeno vedevamo come andava io ieri ovviamente l'ho sbocciata perciò la conosco già abbastanza però oggi la usiamo insieme e vediamo com'è non sono ancora uscita oggi perciò non sono ancora truccata usciremo tra un po e quindi niente mi devo preparare anche perché è una faccia che sembra che mi hanno pestata a sangue e non è un bene useremo anche il nostro solito fondo questo qui fuori fa un caldo sovrumano oggi ha cambiato completamente clima rispetto ai giorni scorsi da una roba sconvolgente io non capisco più che cazzo di tempo fa ma va bene allora sono un po stanca nel senso che oggi a parte fare le pulizie a casa non ho fatto presente niente però è stata una settimana veramente pesante e quindi ho preso la decisione di oltre a fare quello che ho fatto prendermi una mezza giornata dove non ho fatto nient'altro che guardare sherlock sul in tv e questo perché sono veramente molto 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 stanca è stata una settimana pesante e poi sono in una fase della mia vita nella quale ho bisogno di recuperare energie perché sono piena di preoccupazioni e non so bene neanche io dove sbattere la testa ma a parte questo è tutto sotto controllo allora lascizziamo 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 e mettiamo mettiamo un blush che non metto mai anche se in realtà mi piace tantissimo ed è il blush di equilibra love's nature questo blush bellissimo che ha questo scatolotto meraviglioso è un colore che mi piace tanto è molto naturale mi da un incarnato sano senza essere troppo troppo pesante mi piace moltissimo volevo fare una prova e vedere una cosa meglio così più naturale tanto la luce naturale è un po c'è perché sennò quella mi sparaflescia va bene in altri momenti ma in questo in questo non è il suo allora è sempre lui è sempre il classico il solito primer chiuso sempre quello di wet and wild che ho comprato questo inverno ovviamente il primer dura un sacco e io ne uso uno per volta perché non mi piace usare 75 primer insieme insieme e quindi è sempre lui allora ieri ho comprato questa palettina e le ho sbocciate tutte e questa qua ve la faccio rivedere senza la super luce super sparaflesciata è questa i colori sono questi è vero che sono dei colori un po basic però gli altri erano troppo e poi ho detto vabbè allora uso sulla palpebra mobile questo che color mi spoilt che è un rosa opaco ma è solo perché voglio uniformare l'incarnato della palpebra mobile visto che oggi ho gli occhi un po segnati dalla stanchezza volevo evitare di sembrare proprio al devasto e faccio due passate perché oggi veramente sono veramente stanca nonostante abbia dormito comunque sette ore che non sono tante ma non sono neanche poche mi sento completamente a pezzi cioè non so come mai però è così poi dietro questo qui uso questo rosa sheer questo che si chiama sweet tart così da un po di luminosità lo stendo prima con questo pennello qui ma adesso voglio prendere un pennello piatto tipo questo e stenderlo un po meglio sfarina un po questo pennello però è un pennello fantastico per fare questi lavori un pochino più questo è un colore ovviamente molto chiaro però rimane molto luminoso sugli occhi vedete e quindi viene utile quando volete dare un po di luminosità allo sguardo perché oggi è una di quelle giornate che per voler guardare la voglia uno rimarrebbe letto tutto il giorno ovviamente poi ci sono delle robe da fare se vuole poi con questo pennello da sfumatura prendo questo colore qui che è sempre sheer è un marroncino tortora neanche top e vado nella piega dell'occhio per fare un filo di transizione per dargli un filo di ombreggiatura in realtà non voglio essere troppo pesante voglio che sia un trucco abbastanza fresco perché ho già gli occhi troppo stanchi devo dire che questa palette che sto usando con voi oggi perché io l'ho comprata ieri è una figata nel senso che al contrario della nove colori quelle piccoline dalle quali io ne ho una e mi ha lasciato abbastanza delusa nel senso che pensavo che fosse ho la frangia lunga devo andare a farmi tagliare io pensavo che fosse un po' più scrivente invece mi ha lasciato un po' così almeno quella che ho io che è quella sui viola non sono le altre se ce le avete fatemi sapere ditemi come vi siete trovate io non mi sono trovata proprio al massimo questa qui ha una scrivenza migliore è meno polverosa anche se è leggermente polverosa ma è una cosa che comunque ci sta dentro e mi piace nel senso la preferisco alle altre poi sul finire dell'occhio per dare definizione prendo questo marrone freddo che è un colore schivantissimo ne ho messo troppo aiuto un colore schivantissimo ed è quello che mi ha fatto mi ha convinto a comprare questa palette e perché questo? perché nelle altre palette c'erano sempre un colore o due che scrivono pochino e io invece volevo una palette con dei colori che scrivessero più o meno tutti alla stessa maniera ma questo perché? perché ne ho già una valanga di palette dove puoi usare 3 o 4 colori poi dopo non va bene poi si perdono e volevo una palette che avesse una scrivenza più o meno tutta simile un po' esagerato più o meno tutta simile questo perché magari se mi capita di andare via decido di portare minchia che casino che ho fatto porca trota mi sono sporcata le dita comunque dovesse capitare anche a voi usate il pennello del correttore o del fondo e niente io lo uso spessissimo per fare questi lavori di fino perché capita un po' a tutti di fare delle cazzate no? e voilà e quindi volevo una palette che avesse una sua un range di scrivenza che non fosse due cialde sì e tre no anche perché questa palette io l'ho comprata diciamo che è stato un regalo nel senso che io ho delle gift card della rinascente e vabbè non sono proprio soldi miei però io mi metto nell'ottica di una persona che va a spendere 39,50 di una palette e si trova tre colori che scrivono e due no magari gli girano anche un po' i coglioni quindi cerco di essere sempre abbastanza obiettiva in questo senso perché capisco che io ho questa fortuna quindi tanto me le posso regalare queste robe e non spendere dei soldi però chi li spende magari gli ruga anche allora adesso uniformo la sfumatura dei due occhi in modo che non ce ne sia una chiara o uno scuro ma che siano tutte e due più o meno simili direi che ci siamo e poi sempre con lo stesso pennello però lo pulisco prendo questo colore che è un argento e lo vado a mettere sulla sulla transizione dei due colori e lo sfumo verso l'interno questo perché non voglio che ci sia uno stacco eccessivo però voglio anche che ci sia ancora un po' di luminosità e questo colore qua è l'ideale perché è luminoso lo picchietto un po' perché ovviamente è più facile non fa fallout questo devo dire che per essere un colore comunque con dei glitterini non vi va in giro metto un po' faccio un piccolo punto luce e voilà il trucco è a posto questa non è un'ombra questa è una macchia da pelle ve lo dico prima che vi indiciate c'hai un'ombra c'hai un po' di allora nell'utilizzo questa palette si rivela una figata nel senso che rispetto all'altra palette di marca che avevo a me piace molto allora i colori che ho usato sono questo che è il rosa chiaro questo qui questo è il rosa sheer questo è l'argento questo è il top e questo è il marrone che vi sarete resi conto voi vabbè io adesso lasciate stare che il dito è un po' scomodo però è il colore più scrivente in assoluto io l'avevo già swatchata ieri le ho swatchate tutte a lungo ed è la palette che in assoluto mi è piaciuta di più sono dei bei colori sono scriventi vi dico è leggermente polverosa ma non è fastidiosa ad utilizzare mi è piaciuta molto subito e quindi ho deciso che era la palette giusta per moi e me la sono accaparrata tra l'altro vi dico non è economica non è neanche questo gran costo perché costa 39,50 euro che tutto sommato ci sta anche dentro non riesco più a rimettere la cartina adesso si i nomi dei colori sono questi non so se si vede ehm devo dire che mi piace e l'avrei presa adesso che l'ho provata grazie grazie Sara adesso che l'ho provata vi posso dire che l'avrei comprata anche se non fosse stato uno pseudo regalo o circa quasi poi sopra lui ha la sua plastichetta e via così allora ovviamente metteremo la mascara viola e anche sotto nella parte sotto dell'occhio mettiamo una matita viola perché io non posso farne a meno nel senso che oggi ho un'altra di quelle giornate che troviamo le matite viola se riusciamo oggi ho un'altra di quelle giornate complicata in cui ho gli occhi stanchi e hanno bisogno di colore poi devo andare a ritornare a raccomandata io non so voi ma tutte le volte che mi arrivo nella raccomandata io vado nell'ansia perché le raccomandate non sono mai delle robe fighe cioè non c'è mai nessuno che per raccomandata ti scrive oh hai vinto un premio ti diamo 10 mila euro sti cazzi di solito sono delle sole io non riesco mai a capire da cosa aspettarmi quindi poi vado in ansia e son scema e vabbè non è colpa di nessuno purtroppo le cose vanno così se ci nasci te lo tieni il mascara che uso è sempre il solito quello di cui ieri in direct ho fatto vedere che ho comprato nelle stories di instagram io ho fatto una direct o ne ho comprati sei di questi ieri cioè ne sono arrivati sei da da Aliexpress perchè ne sono comprati perchè il mascara che faccio andare di più ne uso uno al giorno costa uno al mese uno al giorno costa una cavolata e allora ho deciso bene di fare scorta mamma oggi sono mal destra mal sinistra mamma mia sono veramente messa malissimo sono proprio un po' stanca comunque il test di questa palette è superatissimo mi piace un botto il trucco è questo qui io mi sono sparsa mascara da tutte le parti molto brava bis niente così vi faccio vedere e questo è se vi capito di andare alla MAC dategliela un'occhiata a queste palette so che la Mimica Pamela per la mela su instagram ha comprato l'altra quella penso smokey comunque è bellissima anche la sua fatemi sapere se avete visto queste palettes le avete provate se volete provarle io vi mando un bacio e vi lascio alla prossima ciao